Onore ai partigiani Vottero Aira Giacomo Presente Vottero Aira Ignazio Presente Vottero Viutreila Domenico Presente Trittongo Pierino Presente Gisolo Secondino Presente Erano 5 tutti di Pugnetto Una frazione di mezzanile Furono uccisi dai nazifascisti Il 22 febbraio del 1945 A Givoletto Dove erano scesi per un'azione di sabotaggio Per ricordarli Oltre ai discorsi e alla lettura di documenti Anche un coro di giovanissimi Gli Angeli Scatenati Siamo i livelli della montagna Gli angli stenti e i pavimenti Ma quella fede che ci accompagna Sarà la legge della Perni Ma quella fede che ci accompagna Sarà la legge della Perni L'Istitizia è la nostra disciplina Libertà è l'idea che ci avvicina Grosso sangue e colore della bandiera Gli angli stenti e i pavimenti Ma quella fede che ci accompagna Sarà la legge della Perni Anche questo è un modo per sottolineare che nelle valli di Lanzo costellate di lapidi la memoria della resistenza non si è affievolita ma resta un patrimonio collettivo e coltivato generazione dopo generazione.